Reggiolo fu abitata sin da tempi molto antichi. Durante il dominio dei Gonzaga, a Reggiolo fu assegnato il compito di città difensiva e venne fortificata. Nonostante il compito di Reggiolo come roccaforte sia durato a lungo nel tempo, tutto ciò che rimane delle fortificazioni è l'imponente rocca, oggi principale caratteristica della cittadina. Grazie a tutti.